Buongiorno e benvenuti a tutti. A me è dato di aprire questo momento importante di vita del nostro partito. È dato di iniziare ricordando che vi è un tempo per ogni cosa, che vi è un tempo per demolire e vi è un tempo per costruire, vi è un tempo per piangere e vi è un tempo per sorridere. Quello che importa, quello che conta, è di non perdere la bussola e soprattutto di non perdere la speranza di sperare. Sant'Agostino diceva che la speranza ha due figli, la rabbia e il coraggio. E io credo che noi in questi anni abbiamo dimostrato di essere coltivatori di speranza, riuscendo a manifestare rabbia, indignazione, ma anche coraggio. Oggi è un tempo nel quale la nostra rabbia, la nostra indignazione deve cambiare obiettivo, ma è anche un tempo nel quale il nostro coraggio deve servire a fare qualcosa di altro e di nuovo per il nostro Paese. Veniamo ognuno con le proprie storie, da 20 anni che sono 20 anni di resistenza. Dal 1992 ad oggi abbiamo vissuto ognuno di noi, nei rispettivi luoghi di impegno, un'azione di resistenza. Convinti come eravamo che potesse nascere una seconda Repubblica, abbiamo scoperto che non è nata la seconda Repubblica, ma che si è celebrato il secondo atto, la brutta fine della prima Repubblica. Abbiamo assistito a una volgarizzazione dei vizi della prima Repubblica. Abbiamo assistito a un sistema di corruzione. C'erano le tangenti nella prima Repubblica, nella seconda sono diventati un sistema. C'era la volgarità nella prima Repubblica, coperta spesso dall'ipocrisia. La volgarità è diventata stile di vita nella seconda Repubblica. C'era il conflitto di interessi nella prima Repubblica, che riguardava i grandi centri di potere, Mediobanca, la Fiat, Leni, è diventata il modo di comportarsi del nostro vicino di Pianerottolo. C'era la cultura dell'appartenenza nella prima Repubblica, che riguardava essenzialmente noi meridionali e noi siciliani, quando qualcuno ti domandava non che cosa sai fare, ma a chi appartieni. Se la tua appartenenza era forte, potevi essere un farabutto, facevi carriera. Se la tua appartenenza era debole, poteva essere Einstein, restavi disoccupato. Bene, questa cultura dell'appartenenza è diventata cultura nazionale, non è più un vizio siciliano o meridionale, ma cultura nazionale. Oggi ti domandano a chi appartieni per fare l'operaio a Bergamo, non per fare il direttore generale a Palermo. E' diventata cultura nazionale. Contro tutto questo, in questi venti anni ognuno di noi con le proprie storie ha combattuto e si è fatto resistenza. E in questo panorama Italia dei Valori e Antonio Di Pietro si sono fatti resistenza rispetto a tutto questo sistema che poi diventava malaffare, corruzione e mafia. Tutto questo in un sistema nel quale siamo passati dal berlusconismo al montismo. Siamo passati cioè da una deformazione del rigore, dell'equità e dello sviluppo a una deformazione dell'equità e dello sviluppo. L'Europa in questo momento, lo ricorda Nicolò Rinaldi, il nostro capogruppo al Parlamento europeo, l'Europa in questo momento appare la nemica, ma appare la nemica a coloro che non hanno saputo interpretare in maniera corretta le scelte europee. E tutti se la prendono con la Germania. Consentitemi, fermiamoci, fermiamoci in questa critica alla Germania. Perché la Germania è riuscita a coniugare il rigore finanziario, sviluppo economico ed equità sociale. È riuscita a realizzare i tre obiettivi. Ha realizzato i tre obiettivi che in Italia invece non sono stati realizzati. Perché Berlusconi ha distrutto il rigore, l'equità e lo sviluppo. Monti, diciamolo francamente, in nome di un rigore imposto dalle banche ha distrutto lo sviluppo e l'equità. E adesso i dati economici ci dicono che non c'è più neanche rigore, se è vero come è vero che il debito pubblico ha superato i 2.000 miliardi di debito pubblico. Allora, se tutto questo è vero, io credo che sia necessaria una presenza che si colleghi, come è giusto che sia, che si colleghi alla nostra storia, ai nostri valori, alle ragioni per le quali siamo qui insieme in tanti, in tantissimi venuti da ogni parte d'Italia. Noi dobbiamo, certamente con molta forza, criticare coloro che tra di noi hanno sbagliato e sbagliano. Ma c'è una differenza tra noi e gli altri. C'è una differenza tra noi e gli altri. Da noi chi sbaglia paga e se ne va. Gli altri invece difendono chi sbaglia. Gli altri difendono chi sbaglia perché partono dalla cultura dell'appartenenza. Ma chi può giurare che qualcuno di noi non possa sbagliare? La differenza non sta se qualcuno sbaglia o qualcuno non sbaglia. La differenza è che se qualcuno sbaglia paga e se ne va e se non se ne va viene cacciato. E credo che sia questo il senso vero. Ed è questo il senso vero che ci porta a non dover disperdere il patrimonio che abbiamo costruito in questi anni. Sapendo che siamo in presenza di un tentativo di omicidio politico. Stasera a cena possiamo discutere su chi è il mandante e chi è l'esecutore. Ma sicuramente si vuole consumare un omicidio politico. Un omicidio politico che riguarda Italia dei valori. Non riguarda Antonio Di Pietro. Riguarda Italia dei valori. E si usa Antonio Di Pietro per distruggere tutti noi. Per distruggere un patrimonio di valori nei quali abbiamo creduto. Fammelo dire Antonio. A me che me ne frega che vogliono fare fuori te. A me interessa perché tu sei lo strumento per fare fuori tutti noi. E per questo dobbiamo essere tutti uniti attorno ad Antonio Di Pietro per evitare un omicidio politico. Per evitare un omicidio politico che non serve al paese. Pensate il sorriso di D'Alema. Pensate il sorriso di Berlusconi. Pensate il sorriso di Cassini. Quando noi dovessimo essere morti e seppelliti. Pensate alla gioia. La gioia. Ecco la ragione per la quale siamo qua. E siamo in tanti. Voi sapete io penso al 2018. Penso al 2018 e il Presidente sa che io ho costituito la rete 2018. E voglio lavorare perché nel 2018 ci possa essere una grande rete. Però io so che se Italia dei Valori muore nel 2018 non riuscirò mai a fare la grande rete. Mai! E allora fatemelo dire. A tutti noi serve che ci sia Italia dei Valori. Serve che ci sia questo simbolo. Serve noi possiamo discutere. Togliamo Italia dei Valori? O togliamo Di Pietro? E' lo stesso. L'importante è che resta il gabbiano. L'importante è che resta questo nostro simbolo, questa nostra esperienza con Antonio Di Pietro presidente. Con il nostro presidente Antonio Di Pietro che si sottoporrà come giusto che sia a un rinnovamento congressuale. Faremo il congresso, stabiliremo cosa fare, verificheremo chi ha ancora voglia di stare con noi e chi invece si è già venduto per un piatto di lenticchia. Vergogna! 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 Quando hai condiviso vantaggi e svantaggi di un'esperienza, devi avere il coraggio di affondare quando l'aria affonda. Soprattutto se hai avuto responsabilità di governo di questo partito. Ecco la ragione perché nei diversi territori coloro che se ne sono andati non erano degni di restare con noi. Non erano degni di restare con noi. Ma noi sappiamo che ognuno di noi potrebbe anche andarsene e fare altre cose. Io potrei anche andarmene e continuare a fare il sindaco di Palermo. Ti disgrazio. Un'esperienza bellissima. Un'esperienza bellissima con il 74% dei palermitani che mi hanno detto che il mio partito si chiama Palermo. Vorrei che noi riuscissimo come tale dei valori a dimostrare che il posto Presidente del Consiglio possa dire che il suo partito si chiama l'Italia. L'Italia. Noi serviamo a questo. Serviamo essenzialmente a questo. Sì lo so. In questo momento si discute chi si compone, chi si scompone, chi vuole fare un'alleanza, chi ne vuole fare un'altra. Noi diciamo con molta forza. Scusatemi noi. Io dico con molta forza che tale dei valori deve restare. Deve restare. E dico con molta forza che noi vogliamo cercare in tutti i modi, ma non comunque, in tutti i modi, ma non comunque un'alleanza col partito democratico. Lo vogliamo. La mia opinione è che il partito democratico non è più libero di stare con noi. La mia opinione è che il partito democratico non è più libero di stare con noi perché è condizionato dall'agenda Monti. E' condizionato dai poteri forti che sono dietro l'agenda Monti. Se è vero come è vero che il onorevole Bersani ha paura della concorrenza non di Berlusconi, di Monti. Forse significa che probabilmente c'è più di un elemento di contatto tra l'agenda Bersani e l'agenda Monti. Nonostante questo io non do nessun pretesto. E' chiaro? Io non do nessun pretesto. Io dico con molta chiarezza che noi perseguiremo fino alla fine un accordo col partito democratico. Lo perseguiremo comitale dei valori, con la vostra dignità, con la nostra storia e con i nostri valori. Ma non lo perseguiremo comunque. Perché se dovesse verificarsi come è facile che si verifica, che ci vogliono imporre dall'articolo 18 ai vari referendum che ci hanno visto protagonisti della vita politica di questo Paese, deve essere chiaro che io non ci sto. Non so se voi ci state, ma io credo che non ci possiamo stare nessuno in questo ricatto che si accompagna all'omicidio politico. Ecco la ragione per la quale io credo che noi dobbiamo allo Stato dire che siamo pronti a presentarci alle prossime competizioni nazionali col nostro simbolo. Con il nostro simbolo. Ma siccome noi vogliamo far nascere la grande rete nel 2018, se nasce nel 2013 forse pure meglio, no? Allora vogliamo in qualche modo dimostrare che siamo a servizio di tutti coloro che in questo Paese sono contro Berlusconi e contro Monti, che hanno un'idea di Europa che coniuga rigore, equità sociale ed sviluppo economico. Questo è il nostro obiettivo e allora da questo punto di vista noi diciamo, ho continuato a dire noi, io dico, ma credo noi diciamo, che siamo convinti, siamo d'accordo, siamo d'accordo che noi siamo con il nostro simbolo pronti a presentarci alle elezioni. Certo, se dovessero arrivare disponibilità, volontà di ampliamento, quanto può servire per essere più grandi e più forti senza che il partito cessi di esistere? Senza che il partito cessi di esistere? Senza ci sono queste condizioni, io credo che noi possiamo laicamente vedere le carte, vedere di cosa si tratta, ma deve essere chiaro Presidente, dopo tutti gli incontri che fa e che faccio, che faremo, noi non possiamo decidere cosa diversa di presentare il nostro simbolo se non facciamo prima una riunione di esecutivo nazionale. Vogliamo discutere in esecutivo nazionale ogni eventuale scelta. Per questo credo che sia necessario entro la fine dell'anno, mi dispiace per i componenti dell'esecutivo nazionale, convocare un esecutivo nazionale del quale il Presidente riferisce dei contatti che ha avuto, degli insulti che ha ricevuto e non sono un dettaglio, non sono un dettaglio per chi ha dignità e ancora conserva dignità e non vende la dignità in nome di un posto in Parlamento. Ed è per questo che io dico che sono contento di questa bellissima assemblea, sono contento di questa nostra bellissima esperienza e mi limito soltanto a dire quando avete tempo venite a Palermo e vedete com'è bella la mia città. Grazie.